Compie 22 anni il torneo internazionale di lotta stile libero Città di Sassari. Abbiamo sentito il presidente dell'Atron Enzo Piroddu che ha presentato l'evento e altre manifestazioni che porteranno la Sardegna alla ribalta mondiale della disciplina olimpica. Anche quest'anno abbiamo un numerosissimo entourage partecipante di nazioni. Attualmente abbiamo un'iscrizione di circa 30 nazioni. Dal 2016 abbiamo cambiato anche il programma, quindi ci saranno due giorni di partecipazione per quanto riguarda la lotta olimpica, sia della classe Junio che della classe Senio. Dopo il 22esimo torneo internazionale di lotta olimpica stile libero greco-romana, il 36esimo torneo internazionale Milone, arriva quindi il Bicirese dopo le Olimpiadi del 2004 di Atene. Quindi abbiamo ottenuto qua in Sardegna e in Italia Bicirese. Bicirese è una rivelazione veramente come sport, sport di spiaggia, così viene definito anche dagli americani, che quest'anno diventerà anche qualificazione per i campionati del mondo.